Ciao a tutti ragazzi, io sono Svela Porti e oggi vi faccio un gioco di magia con le carte. Questo gioco di magia si fa con le quattro donne. Vado a tagliare in quattro parti. Poi si prendono tre carte, si prende la donna di cuori e la si va a disperdere. Poi si prendono sempre tre carte, si prende la donna di cuori, si mette sul mazzo e si va a disperdere. Così. Si prendono tre carte, si prende la donna di cuori sul mazzo e si va anche lui a disperdere. E la stessa cosa con l'ultimo. Però adesso mi basta cliccare le dita che qua ritornano le quattro donne però dopo ogni donna c'è sempre i quattro. Spero che questo trucco vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale e ne vediamo alla prossima. Ciao!